Il bando Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto intende sostenere la nascita, il rafforzamento e la crescita di imprese sociali nell'area del cratere. La creazione di servizi e soluzioni innovative che rispondano alle esigenze dei cittadini. La collaborazione fra imprese sociali e strutture del settore benessere e sanità. Con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro, il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese sociali in forma singola o aggregata di almeno tre imprese tramite contratto di rete oppure associazioni o raggruppamenti di imprese a carattere temporaneo. I progetti ammessi devono intervenire negli ambiti dell'assistenza domiciliare, dei servizi per l'infanzia-adolescenza, dell'invecchiamento attivo, dell'inclusione sociale e sociolavorativa di soggetti svantaggiati, della conciliazione vita-lavoro. Le attività finanziate riguardano per esempio l'apertura, la ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di unità locali, la diversificazione dei servizi, l'aggiornamento delle competenze, l'innovazione e il networking collaborativo. Le domande di partecipazione potranno essere presentate sul sistema informatico Sigef dal 20 settembre al 30 ottobre 2018. Tutte le informazioni sul sito della Regione Marche.